Ma ora non ce la faccio più Sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta Questa è la scelta giusta Alle dodici andate a prendere un mandato di perquisizione Ok, tra un po' partiamo Perfetto Simone, credimi, senza di lui sono rinata E ci credo Sei in debito con noi per la roba? Devi fare un lavoretto Semplice, semplice Sei proprio sicura di non voler fare una denuncia? Potrebbe essere di maggiore tutela per te No, non me la sento Questi sono i fatti, Jimmy Cosa fai? Ti aggreghi a noi? Nuovo caso, eh? Interessante Andrò il più presto La situazione è diventata insostenibile Simone, cosa ne pensi? Preparati Che significa? Non lo so Non so che cosa fare Io non capisco Ah! Un falso permesso? Va bene, ho capito, arriviamo Non ti perdere Ecco, arriva, arriva un attimo Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Chi parla? Pronto? Ce la faccio più Queste telefonate continue Pronto? L'avete mai stata trasferita da protocollo? Bene Ultimamente le vittime di stalking Stanno aumentando in modo preoccupante Ragazzi Tenetevi pronti Il nostro uomo arriva Lasciala stare! Metti giù quell'arma Muoviti! Nicole? Nicole? Lei non mi vuole più!